ciao e benvenuto ad un nuovo episodio di bloomspap io come sempre sono Manulax e vediamo dove avevamo lasciato tanto tempo fa che chi si ricorda più abbiamo un'altra settimana è passato troppo tempo tra l'episodio e l'altro abbiamo fatto i collettori pieni vediamo qua 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 da 15 potenziamenti per uno in più e 1500 di bruntonio perfetto possiamo costruire qualcosa con 21 carretto di nino li magici e carretto di torte alla banana ok e con gli ultimi 3 non possiamo farci niente ma ci ne mancano gli ultimi 3 da fare raccogliamo sfera accommodate raccogliamo soldi non abbiamo più niente sarà sicuramente la solita cosa come ogni volta questa qua yes e livello 93 207 palloncini di piovo difficile non siamo messi bene decisamente non siamo messi bene ma se riusciamo a farla rimbalzare in modo corretto da colpire questo qua improbabile ma siamo un po fortunati dai quasi saremmo riusciti a distruggere tutti questi di piovo farei così io così distruggere questi qua di piovo riusciamo ad andare un po' più normale giù ma ce n'era un altro mortale anche visto da b ok vai capitano johnson capitano strike johnson molto bene molto bene vediamo se riusciamo a usare per scoppiare grande aspetta pensavo fosse quello a b quello sopra eccellente probabilmente verrà tutto questo non riuscirà a far esplodere niente che lo proviamo lo stesso vabbè proviamo lo stesso vediamo se ce la fa assolutamente usiamo capitano churchill e dovremmo distruggere tutti quelli di piombo sì che bastano solo quelli di piombo non è neanche riuscito a far esplodere quello che stessa livello livello bonus e ok con 5 non riusciamo a far tanto tanto ma tutte le cose principali siamo riusciti a prenderla andiamo avanti livello 94 a lungo ringrazio a ciano che quelli generanti ai 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 a livello tosti infatti livello tosto ci danno un sacco di di colpi, vai ninja, vedi di fare qualcosa sopra scimmia ok, dovrei farci fare tanti punti eccellente, adesso se riusciamo a... no, l'ha perso, non so dove l'ho preso lì, stress eh qua, qua al centro sarà un po' difficile passare, vediamo ok, ci sono tutti quelli neri, quelli rigenerati, ad ora fa schifo però direi meglio di niente dai Quincy, dai, dai, almeno quello, quello, quello mago, più o meno più o meno, più o meno abbiamo peggiorato la situazione vediamo se, un po' di compo di là iniziamo a perdere tanti, tanti colpi un po', un po' male fa crescita Gwendoly mi salvi tu, salvi tu Gwendoly, se no, veramente pulisci tutto ma mi raccomando tutto eccellente eravamo abbastanza fregati, no, non ce ne faccio niente vediamo di far imbalzare un po' questa bomba vediamo, meno 4, tutti e 4 li voglio che li usi niente allora, siamo il mago per vedere se non possiamo fare spaventati qui sotto niente hobby, vai hobby di te mi fido che ripresci più del mago e in effetti tanti rigeneranti tanti male un po' maluccia vediamo mancano quelli uh e tac, sbagliato ah, ok ok avevo sbagliato perché volevo prendere il ninja però ci siamo riusciti lo stesso 11 colpi dobbiamo per forza ma super per forza ripulire tutto super per forza guardalo guardalo maledetto tanto perché alla fine non c'avevo niente per inseguire che tristezza livello 95 ultimo ultimo sforzo per arrivare al livello 100 e dopo saltiamo saltiamo bene bene avanti ok abbastanza bene diciamo che se mi dai a torre non è proprio la sua qui di così tanti palloncini guarda che continua a scendere di lato ok quasi meglio ok ora facciamo ribalzare andiamo di qua ok direi sufficientemente bene con qui in si qua dritto per dritto dovremmo riuscire a far esplodere quasi tutti quasi usare la colla per andare giù di giù 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 se si prendono tanti lì qua al centro abbiamo preso un bel po' quindi siamo messi bene userei ninja a caso ok abbiamo dritto per dritto fatto un po' e è durita sto giro come tutti i livelli alla fine sono abbastanza sempre duri da adesso va bene a parte quelli mimetici che ho sbagliato il momento del tiro a Gwendolyn tanto farlo immediatamente non salva niente anche con Robin qua sicuramente non ripuliamo tutto la sopra scimmia ci serve dopo facciamo il mago qua servirebbe un bel potenziamentino qua però Stryker invece abbiamo bloccato tanto non ho fatto tantissimo altro Stryker sì ok mi sto lamentando per il fatto che non sono tanto tanto belli sti tiri ma ne abbiamo altri 19 direi che possiamo anche essere bene messi bene diciamo posso anche lamentarmi meno che non solo questi praticamente qui la maggior parte sono mimetici e perdiamo tanti colpi però adesso al centro le due colpi devono riuscire tutti a togliere ho tolto quello non ho tolto quella mimetica che stress devo fare un doppio rimbalzo per forza la bomba ne fa due e non ce ne farò mai a farne due rimbalzi quando non dico se ce la faccio quando ce la faccio non lo dico che bello ok 14 colpi adesso sto giro serve buona cosa se non mi dai quelli troppo precisi alla fine se c'è un ninja adesso perfetto perfetto guarda ne avanza e ci siamo ci siamo ci siamo di mele 96 per il prossimo episodio e ci vediamo al prossimo ciao a tutti